Allora mi avete chiesto, insomma mi hanno chiesto di parlare di che cosa farò da grande e io insomma sono un ricercatore abbastanza giovane, ho un bel gruppo, oltre 20 persone, lavoriamo, facciamo un sacco di cose. Però non volevo parlarvi di me, volevo parlarvi un po' dell'idea, volevo parlarvi di un'idea molto forte, di un'idea del web dei dati e di che cosa farà da grande, quindi come nasce da bambino quella l'idea e come cresce. Allora esisteva, c'era un, e c'è ancora diciamo, un consulente informatico, un giovane consulente informatico che nel 1989 lavorava in un istituto in cui si producevano tantissimi dati, si facevano un sacco di esperimenti e però si diceva, cavolo continuiamo a reinventare le cose da zero perché non le troviamo, non sono connessi. Tutto il campus era connesso dalla rete, tutti erano connessi alla rete, ma le idee no, le idee non erano connesse. Allora lo viene fuori con un documento chiamato information management in cui dici, vedi, noi abbiamo scritto questo documento, questo documento si riferisce a questa cosa. Insomma questo rimane lì e ci vuole un anno e mezzo prima che riesca a realizzare un mini mini prototipino, riesca a spedire un paper, come diciamo noi, quindi una pubblicazione scientifica, una conferenza che viene rigettata. Ora quella persona era ovviamente Tim Berners-Lee, Tim Berners-Lee l'inventore del web. Come potete vedere da questa immagine, questo web è più complesso di quello che conosciamo noi, vedete quelle frecce che sono i link, come noi conosciamo sul web, i link che uno schiaccia e va nell'altra pagina. Su quelle frecce ci sono delle etichette, su quelle frecce c'è quella che noi chiamiamo semantica, cioè c'è la relazione tra un documento e un altro ben specificata. Ora, non è stata fatta questa, perché il web non è stato fatto così. Il primo prototipo non aveva questa relazione, aveva solo la relazione semplice di collegamento e basta. E' fortuna per noi che in realtà è successo così, perché abbiamo avuto il web, altrimenti non sarebbe successo assolutamente nulla. Perché? Perché il web era facilissimo, molto semplice, basato su idee sane. Dare un nome ai documenti, le URL, voi la URL potete prenderla, copiarla e mandarla per email. Poi è utile ora, la prima applicazione che hanno fatto dopo pochissimo era un elenco telefonico aggiornato centralmente e quindi immediatamente hanno cominciato a utilizzarlo. E soprattutto serve a far vedere le tue cose. Tu fai delle cose, le metti su web e quindi cosa fai? Quando si rompe sei tu che corri ad aggiustarlo, perché siccome fa vedere le cose tue. Quindi questi sono dei sani meccanismi, delle sane dinamiche sociali fondamentalmente, che quindi fa sì che le cose funzionino, per dirla semplicemente. 1996, quindi sette anni dopo, il web è un successone, il web è decollato, loro tornano, Team Benazli torna con altre persone e dicono beh adesso lo rifacciamo per bene, perché insomma l'idea originale era più complicata, volevamo fare la semantica, adesso lo rifacciamo per bene. E hanno un'idea originale, veramente, cioè l'idea che era venuta in mente anche ad altri prima, però in maniera molto pragmatica, con questo entusiasmo, si dice momentum in inglese, io sono abituato, io lavoro in Irlanda, ho abituato a parlare in inglese di queste cose, scusatemi, dico un momentum, come dicevano, su questa cosa, dire benissimo, ora lo facciamo. E hanno questa idea molto semplice di definire un nuovo linguaggio, non so se voi conoscete l'HTML, l'HTML è il linguaggio con cui si fanno le pagine web, è un linguaggio praticamente solo grafico, e loro dicono usiamo la stessa cosa ma per esprimere le relazioni tra le cose, quindi queste URL che voi vedete che somigliano a delle pagine, invece che indicare pagine indichiamo delle cose, per esempio Giovanni, per esempio una città, e loro dicono perché potremmo utilizzare una URL per ogni entità, e hanno questa idea, fanno questo linguaggio in cui si possono fare queste relazioni, si possono fare grafi di relazioni, e come vedete invece delle etichette ci sono ancora una volta delle URL, loro dicono non dovete scrivere conosce, ma dovete puntare ad una pagina dove è descritto il concetto di conoscere, un'idea abbastanza geniale se ci pensate, perché chiunque guarda questo grafo può andare a vedere veramente che cosa significava, e quindi non c'è ambiguità. Insomma l'idea è buona, poi questa cosa si trasforma in uno di questi documenti che piacciono tanto al computer, cioè quel grafo viene, noi diciamo, serializzato, cioè trasformato in una serie di testo, e questo testo si può trasmettere su internet. Questa è l'idea di base di RDF. Ora, wow, che bella idea, che bella idea, arrivano i ricercatori. Ora, perché? Perché un'idea così ha attratto un sacco di chi? Di naufraghi, dell'intelligenza artificiale, cioè l'intelligenza artificiale che per tantissimi motivi non aveva poi fatto tanto, insomma, dal 99, ormai perché? Sarebbe una lunga discussione molto interessante. Però sostanzialmente ci si buttano un sacco di persone. Team lavora al Meet, gli accettano finalmente una pubblicazione e lo citano in 13.766, la nuova pubblicazione sul semantic web. Ne scrivono altre 160.000, se voi andate a guardare, pubblicazioni su questo argomento sono 160.000, più o meno calcolate da Google. Ora, it's AI again, cioè, è di nuovo, la ricerca è diventata molto fine a se stessa, bisogna, dobbiamo dirlo, sono passati tanti anni e perché? Perché molto spesso le applicazioni sono state viste come dei giochi, cioè noi oggi questo semantic web ancora non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo poco poco e vi farò vedere come sta arrivando, ma perché c'è stato un entusiasmo tale dal punto di vista della ricerca che forse in quel periodo non si è fatto molto progresso. La nave salpa, cioè questa è un'espressione che si usa in inglese, the ship is leaving, per dire che la ricerca da sola ha preso la nave e se ne andava in tante conferenze, in tante cose, perché? Perché i ricercatori piace fare le cose complicate, perché cose complicate si pubblicano e pubblicano si diventa professori, insomma, e si fanno tutte queste cose qui. L'industria intanto era lì che era lì con una certa delusione, perché le cose erano troppo complicate, il web intanto esplodeva, quindi chi voleva fare le cose usava il web semplice e si è creata una grossissima separazione. Il ritorno del web, il ritorno del web è stato un movimento di molti anni dopo, cioè solo dal 2007 che la comunità, del semantic web, ha cominciato a dire, sentite ma riagganciamoci, invece che reinventarla a capo, perché si voleva reinventare chissà che cosa, facciamo una cosa semplice e arricchiamo un pochino il web esistente e vediamo se arriviamo da qualche parte. E sono arrivati dei bei progettini, ancora diciamo dei progettini che non ci hanno cambiato ad oggi il mondo in maniera visibile, ma sono estremamente interessanti. Per esempio Wikipedia, grandissima, non so, rivoluzione, base di conoscenza, da Wikipedia hanno estratto in maniera semiautomatica tutta una serie di informazioni, quindi da Wikipedia siamo riusciti a costruire dei grafi con cui riusciamo a fare delle interrogazioni molto interessanti, vi faccio vedere un esempio tra pochissimo. Poi altri siti, per esempio LinkedIn, questo lo conoscete, se voi vi andate ad analizzare il markup, cioè vi andate ad aprire col browser, vedete che hanno cominciato a mettere del markup per indicare questo è il nome e questo è il cognome. E queste sono cose che già dal 2007 cominciavano a esistere anche se ancora non utilizzate. Last.fm per esempio è un altro esempio di sito che aveva questa cosa. Vi faccio vedere un paio di esempi, qui stiamo al 2007 dicevo, ok siamo partiti prima, nel 2007 c'erano ancora queste cose, ancora non era esplosa, ma già avevano cominciato a pubblicare un po' di questi dati. E vi faccio vedere un paio di esempi, wow, perché cominciano a vedersi già nel 2007 che danno un attimino l'idea di cosa potrebbe fare questo web of data da grande, ok? Allora vi faccio vedere io qui se tutto funziona con internet. Dbpedia, questa è Dbpedia Italia, la versione italiana che è stata lanciata qualche giorno fa, nella collaborazione anche col gruppo in cui lavoro io, va bene, devo farvelo vedere. Insomma, Dbpedia è una cosa che estrae appunto da Wikipedia Italia tutta una serie di informazioni che alla fine possiamo farci delle domande in maniera straordinaria. Per farvi un esempio, adesso non me la lancio neanche, però per darvi un'idea delle domande che possiamo fare a questo sistema, si potrebbe dire, puoi dirmi gli artisti, non so, gli artisti donna che sono nati in città italiane, che hanno meno di 40.000 abitanti e che ora vivono a New York. Non ve la faccio vedere, sarebbe complessa da scrivere, ma questa domanda si può fare, perché se noi trasformiamo Wikipedia in un grafo possiamo riuscire a fare questa domanda e se voi a manina vi andavate a cercare questa cosa non ne sareste più usciti. Vi faccio invece vedere una cosa che trova le relazioni che è molto interessante. Per esempio, io non conoscevo Brera, non conosco la storia, allora posso andare qua e dire, mi dici la relazione che c'è tra Milano, quelle che tu conosci, diciamo, tra Milano, la città e Brera. Lui ci pensa un attimo e poi ti dico, trovami le relazioni. Questo soltanto dall'analisi appunto del testo, lui comincia a tirarmi fuori tutta una serie di cose. Per esempio, lui mi dice, questo lo capisco un po' io, scusate, mi dice guarda che Brera è un concetto ambiguo, si può parlare dell'Alfa Romeo Brera oppure si può parlare di Paolo Brera o di varie, però qualunque tu parli, per esempio Paolo Brera è nato a Milano, oppure, qui c'erano degli esempi, ecco qua, Gianni Brera è nato a Zenone del Po, che è una parte eccetera eccetera che finisce sotto Lombardia da cui parte è Milano. Cioè, queste cose sono lontanissime ma sono estremamente interessanti. Ora, sapete che è veramente, questa cosa qua è stratta dall'analisi di Wikipedia, con questo RDF, con questo grafo che vi dicevo prima. Sapete che sono assolutamente entusiasti di questa cosa, impazziscono chi fa bioscience, chi fa life science, perché ci sono enormi database in cui i geni sono connessi con malattie, che sono connessi con quelle che lo chiamano targets, eccetera. E avere, sembra molto rumoroso, ma se si hanno delle tecniche poi per mettere in ordine, diventa estremamente utile. Vi faccio anche vedere un'altra cosa in cui, questo è un sistema sperimentale, che io metto un nome, per esempio Tim Berners Lee, e lui se ne va in giro per questo Web of Data, raccoglie pezzettini che trova in giro in tutte queste pagine, sono tutti dei piccoli pezzettini di markup, posso dirgli da 20 pagine, lui ha trovato su Web, ha raccolto i pezzettini, questi qui strutturati, e li ha sommati tutti insieme, l'idea di Sigma, per tirare fuori un profilo strutturato, per esempio con tutti i documenti che lui ha fatto, i paper, e ognuno di questi viene, per esempio io posso chiedere, chi è che ti dice che lui ha scritto questa cosa, posso dire, vedi che ci sono questi due documenti che dicono che lui ha scritto questa cosa, è tutto raccolto in un'unica visione, diciamo, questo è un prototipo di ricerca che penso possa essere di ispirazione, ma ancora per pochi perché la ricerca anche lì non aveva ancora raggiunto i grandi grandi numeri, il grande grande pubblico, quello che invece è successo è che il grande pubblico, cioè la grande industria Web, ha capito il concetto forse sentendo la conversazione e ha tirato fuori un sistema molto più semplice che però ha avuto un sacco di successo, ed è questa cosa che voi vedete dappertutto sul Web, voi dovete sapere che quando vedete quella c'è dietro un po' di markup, quindi si sa, c'è scritto che cosa sta parlando la pagina, ve la metto in maniera molto semplice. Potete notare che i risultati su Google oggi non sono più delle scritte, ma sono delle vere e proprie piccoli report sul contenuto della pagina, questo è il risultato, questo è il prezzo, questa è la data, perché loro leggono già queste informazioni strutturate. A questo punto i grandi motori di ricerca dicono cose del tipo, a questo punto dettiamo noi come vanno le cose, e questo fa un pochino paura da un certo punto di vista, però io anche parlando con delle persone a Google eccetera eccetera, hanno detto, noi abbiamo aspettato che le cose dalla parte della comunità di ricerca crescessero in maniera organica, poi non è successo e adesso vediamo noi 200 pagine di specifica, se vi andate a srotolare tutte, si chiamano schema.org, in cui loro dicono per qualunque tipo di oggetto a cui loro sono interessati, per esempio se avete un negozio, se vendete dischi, se avete un painting, per esempio un dipinto, una fotografia, vi dicono tutto il vocabolario che voi dovete utilizzare se volete essere cercati per bene da Google. Voi pensate che questa sia fantascienza, invece no, già funziona adesso, vi faccio vedere un esempio che forse può interessare a Davide che abbiamo sentito prima a parlare di cucina. perché se io vado oggi, proprio oggi, su Google, Google.com e cerco, aspetta, chicken pasta, ok? Questa è una cosa americana, in Italia si usa poco. Ora, notate quella cosa che vi dicevo prima, che qui si vedono le stelline, eccetera, eccetera, e guardate questa cosa a sinistra. Vi sta chiedendo che ingredienti vuoi? No, non voglio il limone, però vorrei qualcosa che ha a che fare con i, che so io, gli spaghetti, e non voglio più di 300 calorie, e non voglio più di, voglio meno di 30 minuti. Ora, questo a voi sembra un database, perché loro si sono fatti un database di ricette, non lo è. Queste sono tutte pagine che vengono da siti diversi, perché funziona? Perché queste persone hanno aggiunto questo minimo di markup. Quindi, se Davide fa il suo blog, o anche sulla sua homepage del ristorante, utilizza quei termini specifici dentro l'HTML, lui appare qui e può essere ricercato e ristretto. Questo è il motivo per cui i motori di ricerca detteranno un po' questa cosa, perché chiaramente chi non sta a queste regole, queste sono le ricette, le hanno fatte vedere soltanto come esempio, ma chiaramente arriverà su tutto, qualsiasi cosa. Concludo sostanzialmente dicendo, beh, questo è l'esempio di chicca e impasta, voglio concludere dicendo che il web dei dati è ancora bimbo, cioè non ci se ne rende molto conto, però nell'ultimo anno, cioè io vi sto parlando di questa cosa qui, una cosa di 11 mesi fa, maggio del 2011, sta già crescendo moltissimo, in maniera molto più semplice di quanto i ricercatori non avessero detto e non avessero previsto. Quindi, il potenziale è straordinario, e abbiamo il dovere di ricercarlo. Quante vite umane ha salvato, diciamo, il web, no? Possiamo farci questa domanda, beh, è un'enormità l'informazione, la medicina, che è un salto, un catalizzatore per l'umanità, no? Chiaramente questa cosa ha un potenziale straordinario e quindi dobbiamo impegnarci più possibile a farlo. L'avessimo avuto e non avessimo perso quei cinque anni, forse, magari avremmo, chissà, salvato vite, senza essere troppo pretenziosi. E l'incorso è questo. E quindi, diciamo, la lezione, forse dobbiamo dire uno, è non seguite i ricercatori in crociera, cioè come comunità sarebbe da fare un interessantissimo discorso sociologico, perché sia il web è una macchina sociologica, cioè che o hai degli strumenti, dei meccanismi che funzionano sociologicamente o non funziona, sia la ricerca stessa sul web e in altri campi è la stessa cosa, insomma. Grazie.